e bella tutti ragazzi qui è Bazzu che vi parla e siamo su un nuovo gioco da smartphone il gioco dei minion e adesso andiamo noi siamo bravissimi a questo gioco ve lo assicuro sono bravissimo ci ho già provato è troppo bello è un gioco significativo ho passato l'audio delle casse perchè sono un uccidere ok ho buttato di sotto povero minion l'altro è caduto di sotto è un gioco violento butti gli altri minion di sotto no 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 non ti voglio aiutare ora ritorno al laboratorio della marmellata no 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 non è tentata 3 2 1 percorri per 250 minuti ah no percorri ce la si può fare no 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 schiacciati in giù mancano solo 99 metri nervoso lui gioca non ce la voglio fare non voglio fare 150 minuti ma adesso vedete la barra giù in fondo non voglio arrivare in fondo ripetiziona su qui andiamo con la destra perchè ok avevo detto che ce la facevamo nooo ho sbagliato Però dai siamo arrivati a 422 Abbiamo superato l'obiettivo di un pezzo Ho già registrato ragazzi Tipo 5-6 gameplay Non so questo gioco Sono stanco Sono sbagliato presto Sono tibili le 8 Non c'è C'è domenica Allora Ma qua capito cosa ci fanno le foto Tipo delle persone L'ho visto Ma è finissimo Ma è l'ho visto Però non sono scelte nel film C'è alcune anche su Ma altre Tutti sti Qua Ragazzi stavo guardando Di bellissimi quadri A fianco Sì sì perché a fianco ci sono Bellissimi quadri Come potete Osservare Da Vedete hanno una bomba nucleare Poi ce ne sono Che quando ci sono i quadri Che banale le dovremmo prendere Se le prendo Qui sarebbe l'ultima simile, ma... C'è il Minero che ha fatto una muffina... ...e di Minero che si usa la costruzione capitale. C'è il Minero che mangia un muffin in forma di Minero. Sì, comunque è un gioco abbastanza divertente per adulti, ma anche per adulti è abbastanza divertente. Ah, sì, anche a me lo spiego il titolo. Anche sapete, prima di giocare faccio il titolo. Il record l'ho battuto. Stavo subito per morire. Quero che abbiate visto il gameplay che lo vedranno in netta. Se non lo siete visti è molto simile. Soltanto che non ci sono niente. Però non vi spoilerò niente. E' epico. Mi raccomando, mettete tanti mi piace se volete ancora... ...o giochi di questo tipo. Sono dei gameplay... Oh, oh, oh. Cosa è successo? Perché sono così? Andiamo, stiamo andando super veloci. Cosa ci hanno fatto? Qualche cosa di strana... ...velocina pranzo. Ah! No! Non ci scontriamo solo. Ci cade pure in testa. E te, Minion, suo fratello, cugino, quello che sei, non potevi dargli una mano a non fallire questo raggio in testa? Mi fa male, eh. No, 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 no. Sono fissati. Che bello. Beh, credo che per questo gameplay possa essere tutto. Vi saluto. E ci vediamo alla prossima. E... Ciao!